Un'intensa giornata di trattative interne al PD a Moncaglieri per fare in modo che non si realizzi quanto annunciato dal sindaco Paolo Montagna, cioè di dimettersi con un gesto plateale in piazza a sole due settimane dal suo insediamento in giunta, per poi ricandidarsi alle nuove elezioni con una lista civica. Il destino del comune alle porte del capoluogo subalpino potrebbe essere segnato dallo sfogo del primo cittadino che ha annunciato le dimissioni se non sostenuto nel suo progetto. Il motivo sarebbe una maggioranza non più coesa e la difficile nomina del presidente del Consiglio Comunale che avrebbe portato anche pressioni e interferenze politiche denunciate dallo stesso primo cittadino che sarebbe pronto a raccontarle ai suoi concittadini. Montagna è risoluto e non accenna a compromessi. Intanto l'annuncio di dimissioni ha convinto Carlo Palenzona a rinunciare alla nomina di presidente per le proteste dell'opposizione che lo aveva votato. La retromarcia di Palenzona però non è servita, anzi avrebbe raggiunto il culmine con la minaccia della rinuncia alla poltrona di sindaco. Porteranno a una soluzione le trattative frenetiche in corso anche nel fine settimana? La frattura nella maggioranza sembra però difficile da sanare.